Buongiorno e benvenuti al Golf Rovedine, sono Franco Piras e sono il General Manager di questo splendido campo da golf alle porte di Milano. Il Golf Rovedine è una delle strutture di avviamento del gioco del golf più conosciute e frequentate d'Italia. Dispone di un campo da campionato regolamentare 18 buche che ha ospitato ben due open d'Italia, un percorso da 9 buche e il più grande campo pratica d'Europa che con oltre 100 postazioni di cui 60 coperte e una scuola con ben 10 istruttori professionisti ha avviato al golf migliaia di giocatori. Dal Golf Club Le Rovedine di Milano, linea a te, Gianji a Sarzana.